20 km di coda Cosa? 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 25 km di coda Con tutti questi camion 25 km di coda Trasportano il grano Quello che una volta veniva trasportato via mare Ora, oltre al via mare, c'è anche il trasporto con i mezzi che state vedendo Ma sono 25 km di coda, rimangono fermi qua A volte anche per giorni Prima di essere controllati uno ad uno Perché sono tantissimi E in tempo di guerra capirete che i controlli devono essere ferre e rigidi E adesso siamo fermi anche noi in Dogana E dovremo aspettare tantissimo perché è tutto molto lento Una delle cose che mi ha maggiormente colpito Questo signore che vedrete tra poco Che è stato per tre mesi ad Azov sotto la miniera Poi i russi ovviamente li hanno fatti uscire I civili sono stati deportati insieme anche ai militari Hanno tolto loro i documenti, i soldi Questo signore è riuscito a scappare senza soldi, senza documenti Ed ha attraversato a piedi mezza Europa per arrivare qui Dov'è adesso? "...bonditti, giugali È stato sotto Casadobsi E dopo russia hanno portato in russia e lo ha scopato Io qui qui Allora tra dove in Europa per 3 mesi. Un'altra parte di Tatarstan, 300 persone hanno portato in Tataria, 300 persone. E lui escapato, tre mesi eravamo in Europa. Non c'era il suo lavoro, ma non c'era il loro lavoro. Non c'era il loro lavoro. Tutto. E' stato aiutato a Banca, a Polizia. E' stato arrivato a Ucraina. L'arrivo, il loro lavoro. E' stato benvenuto. E' stato morto. E' stato morto. E' stato morto. In mezzo a questa apparente normalità mi ha colpito anche sentire alcune storie come per esempio quelle di due giovani militari. Il primo che parte con tanta voglia di liberare il suo paese dal nemico e torna senza braccia. Un altro che era intelligentissimo, dicevano tutti, e che sapeva parlare in modo tale da ammaliare chiunque. Ebbene è tornato balbuziente, traumatizzato da tutto quello che ha visto, senza più la capacità di riuscire a terminare una sola frase. Ho avuto l'opportunità di incontrare un giovane militare tornato dal fronte, ovviamente non ho potuto riprenderlo, e ha mostrato con un certo orgoglio un video in cui catturava un soldato russo. Grazie per la visione!